Direttore, ultimo allenamento per l'Akragas in terra molisana. La squadra bianco-azzurra prepara la sfida di domani contro la città di Isernia. Qual è l'umore della formazione a Kragantina in questa vigilia pre-gara? L'umore è buono, l'umore è alto. Siamo arrivati stamattina, siamo qui a Benafro, a 20 minuti da Isernia. Ci apprestiamo a fare la rifinitura. Devo dire che di questo voglio ringraziare la società. Abbiamo fatto una trasferta curata nei minimi particolari, partendo ieri pomeriggio. Adesso siamo qui, ripeto, a Benafro. Pomeriggio si sposteremo su Isernia e inizierà il vero ritiro pre-partita. Parliamo dell'aspetto tecnico, la gara di domani. All'Akragas servirà un pareggio con gol o la vittoria per raggiungere la finale? Sì, è una partita come una vera finale. Ormai ai play-off sono tutte finali. Perciò noi sappiamo l'importanza di questa gara. I ragazzi sono pronti. Anche loro sanno l'importanza e praticamente domani ci giochiamo un'intera stagione e cercare di fare gol perché altrimenti si rischia di andare ai supplementari e poi alla lotteria dei rigori che non sarebbe il massimo per giocarsi con una stagione. Vi aspetto una gara dura. Affrontiamo una squadra preparata, una squadra ben messa in campo, un organico importante, lo abbiamo visto anche nella gara di Agrigento, però sono molto fiducioso. Domani l'Akragas non sarà da sola, avrà il supporto, l'apporto di oltre 50 tifosi. Sì, di questo ne siamo fieri. Siamo contenti di avere la nostra tifoseria al seguito. Li ringrazio per la partita di domenica scorsa e li ringrazio per la lunga trasferta che stanno affrontando per stare vicino alla propria squadra. Fiducioso per la gara di domani? Sì, abbastanza fiducioso.